Bene ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Barry Ragazzoni, video vecchio stile, video come 2-3 anni fa dove vi parlo un po', non c'è gameplay, non c'è nulla A parte vabbè la postazione che è completamente nuova ma la vedrete a breve nel video che caricherò della casa Che devo uscire circa il 17 novembre mi sembra, adesso non mi ricordo Comunque vi mostrerò tutta la casa, vi aggiornerò anche perché ormai è più di un mese che abito in Lussemburgo Quindi vi spiegherò un po' di cose insomma Comunque video di oggi, dal titolo l'avrete capito Siccome in live mi viene chiesto spessissimo cosa ne penso di MV3 Perché MV3 è considerato un gioco a sé e non un DLC Voglio fare un video dove anche su YouTube appunto parlo di questa cosa Perché secondo me il concetto che voglio esprimere non è un concetto che puoi esprimere in un minuto È una cosa che richiede magari 10-15 minuti, adesso non so quanto durerà il video Forse anche di più, è anche poi un rimando nel senso che se me lo chiedono in live almeno c'è il video E poi vi spiego e almeno potete lasciarmi anche le vostre opinioni nei commenti perché comunque sapete che mi interessa MV3, cos'è secondo me MV3? Allora prima di dire cos'è secondo me MV3 dobbiamo fare un po' di passi indietro Secondo me per andare a capire cos'è successo nel tempo, l'evoluzione di Call of Duty e di Warzone negli ultimi anni Call of Duty nel 2019, o meglio MV 2019 ha segnato sicuramente un capitolo non importante di più per la saga Perché ha introdotto Warzone, quindi poche cazzate ragazzi Cioè Warzone ha salvato Call of Duty che era in un periodo di declino costante L'ha salvato, complice anche chiaramente, lo sappiamo tutti, voglio dire il lockdown Non so se qualcuno si ricorda ma il lockdown è il 10 marzo, l'uscita di Warzone combacia proprio Cioè il 10 marzo, neanche a farlo apposta Ha segnato sicuramente un nuovo capitolo per quanto riguarda l'industria videoludica Ma anche per noi che insomma facciamo questo mestiere, non lo metto in dubbio Però insomma ci sono stati poi dei problemi perché chiaramente Warzone è stato ultra criticato Più o meno dopo poco in realtà, dopo 6-7 mesi dall'uscita Però le prime grosse critiche secondo me le ha cominciate a ricevere dopo un anno Quindi cerchiamo di capire un attimino cos'è successo Warzone 1 è nato con lo scopo di introdurre, o meglio c'era già di migliorare una modalità Battle Royale Che con Blackout possiamo definire in fase embrionale C'è riuscita perché comunque Warzone 1 secondo me è stato un gioco fantastico A me personalmente ha divertito un sacco, soprattutto nei primi mesi Che adesso ci tengo a specificare anche perché Poi diciamo che andando un po' più avanti le cose sono un po' cambiate Però insomma Warzone è sempre stato lì, no? Una cosa che dico spesso in live è che l'unica grossa pecca che ha avuto Warzone nel suo diciamo trascorso È stato non avere un erede Perché tutti i giochi ultra virali come Fortnite, come Apex hanno sempre avuto poi un successore E quindi diciamo che i riflettori si sono puntati sul suo successore Warzone purtroppo non ce l'ha perché effettivamente dal 2020 Il Battle Royale che ha fatto più successo è stato Warzone Poi chiaro c'è qualche ogni tanto ritorno un po' Apex, un po' Fortnite Però comunque non è uscito un nuovo Battle Royale che ha segnato un nuovo capitolo Questo è quello che voglio dire Il problema qual è stato? Il problema è stato il gameplay in sé Secondo me gli sviluppatori neanche sapevano dello slide cancel mentre sviluppavano il gioco Però in mente, anzi sicuramente è stata una dinamica che è stata scoperta in gioco Non voluta da progettazione diciamo Però vuoi o non vuoi è stato anche quello che ha sicuramente segnato come dire un tassello fondamentale di Warzone Perché ha creato quello che viene definito lo skill gap Cioè l'abilità nel senso la differenza di abilità tra due player si vede sempre in qualcosa Su Warzone il movement per lo più Allora io lascio a priori lo sparare perché se una persona spara storta e una dritta Va bene lì non ce neanche da Però tra due persone che sparano bene Il movement ragazzi soprattutto in close cambiava completamente il fight E di conseguenza il movement era dato dallo slide cancel per lo più Il problema qual è stato? Il problema è stato che nel tempo questa dinamica è stata ultra masterata Ok? Da persone che hanno tryhardato tantissimo sul gioco E pian piano è stata masterata anche da quel pubblico Meno tryharder ma che comunque magari giocava da tanto tempo a code, era portata e quant'altro Quindi cos'è successo? È successo che si sono create secondo me due gruppi si sono creati di giocatori I tryharder e i casual player Questo penso sia ovvio Ora perché vi sto facendo questo discorso a breve lo capirete non preoccupatevi I tryharder hanno sviluppato chiaramente un'abilità di gioco non indifferente Chi più chi meno Cioè veramente chi ha reso secondo me rabbit e altre mappe quasi ingiocabili Basta vedere i tiktoker Cioè tu entravi nella mappa c'era della gente che ancora un po' manco ti sparava Cioè non ti sparava Tu quittavi perché vedevi uno che girava come un pazzo dannato Cioè vabbè ascolta facciamo una roba Ti risparmio la fatica Io ho quitto E quindi il problema è che questa cosa qua è continuata a crescere fino al punto che Secondo me le persone che magari tornavano a casa giochichiavano un'oretta Si volevano fare due risate non se le facevano più E quindi hanno smesso di giocare sostanzialmente Parere mio Warzone nel tempo ha cominciato a perdere la fetta di pubblico casual Che vuoi o non vuoi inizialmente era secondo me 90% di chi giocava a Warzone Infatti io mi ricordo sono andato a rivedere in live qualche mio video vecchio Ragazzi mi sono reso conto che i miei primi video su Warzone all'uscita di Warzone Era proprio un abisso C'era un abisso di differenza tra gli ultimi Si giocava per vincere la partita ma c'è che dovevi posizionarti Dovevi prendere il punto perfetto Sembrava di giocare un torneo ad ogni partita Ma il livello era bassissimo Però ci si divertiva un botto Come in tutte le cose tequila mi sta mangiando tutto il letto Vabbè fa niente Come in tutte le cose poi il livello cresce Però secondo me qua c'è il primissimo errore Da parte di Adesso io non so penso Activision che darà delle direttive Perché la Raven Software sviluppa Quindi vabbè comunque diciamo Activision C'è stato diciamo il primo grandissimo errore Warzone 1 ha avuto una durata comunque considerevole Perché ha durato praticamente due anni Fino a quando poi a Los Angeles Alla presentazione di Modern Warfare 2 Alla quale ho partecipato proprio in loco a Los Angeles Hanno presentato appunto quello che sarebbe stato il nuovo Warzone Warzone 2.0 Ora io penso che non solo a noi perché l'hanno detto anche sui vari social C'è stato il primo grande scoop della storia di Call of Duty Ovvero che Call of Duty Modern Warfare 2 Sarebbe a loro dire durato almeno due anni Questo cosa significa? Che per la prima volta nella saga credo Almeno sicuramente da 15 anni a questa parte Non sarebbe uscito un Call of Duty l'anno dopo Perché avrebbero continuato a gestire quel Call of Duty lì A migliorarlo A fare quindi aggiornamenti tendenzialmente gratuiti nel tempo Quindi si pensava che a novembre dell'anno successivo Ovvero adesso sarebbe uscito magari un grosso update Sarebbe cambiata la mappa Cose del genere E questo secondo me era il loro intento Anche perché cioè parliamoci chiaro Sarebbero dei matti a dire una cosa del genere Se poi effettivamente non lo è Ma innanzitutto perché Warzone 2? Perché volevano dare una rinfrescata Ok? Però cerchiamo di capire cos'è cambiato in Warzone 2 Perché se adesso è uscito un nuovo gioco Comunque Warzone cambierà parecchio Evidentemente in Warzone 2 c'è stato qualcosa che non andava Secondo me dicevo ci fu il primo errore Quando Activision decise di ricreare un Warzone Togliendo quello che era lo skill gap Ovvero lo slide cancel Perché io forse molti di voi non si ricordano Ma quando è uscito Warzone 2 ragazzi Non ci si poteva piastrare correndo Cioè io non so se vi ricordate questi piccoli particolari Non potevi aprire le porte mentre ti piastravi Cioè tu eri letteralmente un tronco in giro per la mappa Hanno reso quella che creava skill gap Ovvero lo slide L'hanno reso più che un bonus un malus Perché a inizio gioco se slideavi eri morto Cioè non avevi nessuno slideava Quindi cosa hanno fatto? Questa mossa qua secondo me l'hanno fatta Perché hanno cominciato a vedere Una ingente perdita di utenza su Warzone 1 E hanno voluto fare qualcosa Per cercare di riprendere i casual player Però secondo me Io non so se magari Sto dicendo delle cose allucinanti Fatemelo sapere Però secondo me è anche banale come concetto Quindi non capisco come facciano ad arrivarci loro Cioè bisogna anche considerare Che l'utenza casual È raro che torni su un gioco Cioè non gliene frega Non è che sono devoti a Warzone O non vedano l'ora che Warzone È gente che magari ha giocato un anno Poi basta Cioè non ci torna sul gioco Quindi secondo me Activision ha fatto un errore grossissimo Cioè quello di levare lo skill gap dal gioco Che era lo slide Ok Per introdurre Quello che parliamoci chiaro Al day one Era un Warzone Che non ti dava niente Cioè non c'era modo di Potevi solo sparare meglio Dell'avversario Non potevi fare nient'altro Infatti il gioco è stato iterato Fin da subito Ora andiamo ad analizzare Quello che è successo però Con Warzone 2 Se andiamo a vedere Warzone 2 Ragazzi Season per season Ok Non è letteralmente cambiato Niente Nel gioco Se non Vabbè ok Tralasciando i balloon Quelle varie cose Ma tutte cose prese dal vecchio Warzone 1 Se non che hanno cambiato il movement nel tempo Perché effettivamente l'unica cosa che hanno cambiato ogni season È stato il movement E voi direte Cazzo che figata Magari hanno introdotto qualcosa di nuovo No Ogni season di Warzone 2 Era un passo indietro a Warzone 1 Hanno diciamo sbagliato tutto E ogni season ne approfittavano Per cercare di fare dei passi indietro Per cercare di rendere Quello che era Il movement È più simile a quello dell'uno Ok E effettivamente Vi dico Secondo me Nella fase finale Warzone 2 È anche un bel gioco Il problema è che ha stufato Perché Non puoi tenere una mappa Di un battle royal Per un anno intero Uguale Identica Spiccicata A parte vabbè Osservatorio Che ok Ma l'hanno anche cambiata parecchio Osservatorio Però Cioè È una parte Se non scendi lì Non è che Il resto è identico Non è cambiato nulla Hanno fatto un evento Che oggettivamente L'evento zombie È stato molto carino Però anche lì Sono riusciti a toppare Perché l'hanno lasciato Per tre settimane Che al momento La gente giocava solo di notte Non si capiva più un cazzo Hanno fatto secondo me Proprio tutto quello che poteva Le cose belle Positive Sono riuscite a renderle negative E quindi si sono ritrovati Come dicevo Season per season A rimettere quello Che era un po' Lo status di Warzone 1 A riportare Allo status di Warzone 1 Questo perché Perché secondo me Si sono resi conto Che il grosso errore Che hanno fatto È stato cercare Di soddisfare Quelle che secondo loro Erano le esigenze Di casual player Cioè di limitare Tantissimo lo skill gap Per rendere il gioco Piacevole a tutti Quindi andando contro A chi invece Ci tryhardava pesante Sul gioco Perché ci passava le ore Perché gli piaceva un botto Perché migliorava Migliorava E facendo questa cosa qua Cioè cos'è successo? Non hanno Secondo me Riavvicinato i casual player Che hanno perso In più hanno allontanato Quelli che giocavano tanto Molti ne hanno allontanati E quindi hanno dovuto Metterla a retromarcia Hanno detto Salviamo il salvabile Proviamo a riportare indietro I tryharder Ridando loro Un movement che comunque Possa essere simile A quello di Warzone 1 Ora piccola Diciamo piccolo appunto Effettivamente Warzone 2 Comunque è un gioco migliore Dell'1 Perché io ho giocato all'1 L'ultimo giorno Ragazzi sembravi giocare A un gioco della play 2 Rispetto al 2 Secondo me se avessero lasciato Un movement un po' simile Avessero cambiato Avessero introdotto Perché effettivamente Non è che abbiano introdotto Le cose Hanno introdotto delle cose carine Perché i bengala Sono stati una figata Questo va detto Però insomma Warzone 2 Comunque si vede Che è un gioco Next gen Diciamo Però è un gioco Che non soddisfa Le persone Che avrebbe dovuto soddisfare E qua arriva La diciamo La fase critica Secondo me A loro dire E questa è una cosa Che hanno detto loro Non è che me la sto Come dire Non me la sto inventando A loro dire Sono arrivati Ad un punto Che era impossibile Velocizzare Più di quanto Di quanto Avessero già fatto Il movement Cioè più di così Io non sono Un esperto Un programmatore Presumo che Per come è stato Progettato Era impossibile Modificarlo Rendendolo più veloce Più di quanto Avessero già fatto E quindi Secondo me Loro si sono trovati A un bivio Ovvero Teniamo il gioco così Continuando a perdere Mese per mese Utenza O proviamo qualcosa Ma cosa proviamo L'unico modo è ricreare Un gioco da zero Ed è Modern Warfare 3 Ora Modern Warfare 3 Vi dico Io ci sto giocando In live in questi giorni È un gioco che Oggettivamente È divertentissimo È bellissimo Però diciamo che Giocano anche sporco Perché se mi metti Le mappe di Modern Warfare 2 Che è un gioco Che io da piccino A 15-16 anni Ho divorato Perché ci giocavo Tutti i giorni Cioè per me è diverso Nel senso che Non potrò mai dirti Che non è bello Cioè come faccio A dirti che non è È come se facessero Una remastered In Black Ops 3 Nessuno potrebbe dire Che è brutta Però rimane comunque Una remastered Questo gioco qua ragazzi È un riciclo Di tante cose Che hanno fatto Gli accessori delle armi Sono gli stessi Praticamente del vecchio Le armi ci sono dentro Anche quelle del vecchio Di MW2 Le mappe sono quelle Di dieci anni fa Quindi è Hanno preso Diciamo le cose belle Di ogni code Che hanno fatto Negli anni passati L'hanno buttata insieme Hanno fatto venire fuori MW3 Che oggettivamente È molto divertente Ma io Sinceramente Non l'avrei fatto pagare I soldi che costa Questo è Quando vi dicevo Ai tempi Che MW3 Era un gioco Non previsto È vero Perché adesso Hanno appena confermato Che il gioco È stato sviluppato Praticamente in un anno Dalla casa produttrice Normalmente Ogni Call of Duty Viene sviluppato in tre anni Questo in uno Perché? Perché non era previsto Che venisse sviluppato Quindi oggettivamente Avendo poco tempo Hanno dovuto cercare Di dire Ok come facciamo Facciamo una roba Prendiamo le cose migliori Dei vecchi code Così accontentiamo tutti E l'unica cosa Che secondo me Loro hanno fatto da zero È stato il movement Loro hanno creato Un gioco Per aggiustare Il movement di Warzone Questo è quello Che penso io Di MW3 Mi hanno chiesto il parere Un voto Ma io gli do anche 8 e mezzo Gli do 8 e mezzo A Modern Warfare 3 Perché secondo me È divertente È l'unico multiplayer Che mi sta facendo giocare Tutti i giorni Chiaro Ci sono le mappe vecchie Le solite cose Come ho detto prima È ovvio che è così Però insomma Se andiamo indietro Nel tempo E loro dicono Che il gioco Doveva durare due anni E poi non è vero Perché ne fanno uscire Uno nuovo Che costa 70 o 100 euro E se vado a fare Una torta finita Secondo me È un 5 Perché Perché il gioco È bello Ma è come se fosse sporco Non so come spiegarmi Quindi questo è Secondo me Modern Warfare 3 È considerabile Un gioco Costruito Per aggiornare Il movement Di Warzone Questo è Nulla di più Perché effettivamente Ragazzi Se andate a vedere La mappa nuova Adesso io L'ho vista comunque Da zombie Giocando zombie Cioè a me è proprio Il colore Così mi ricorda Il Masra È una mappa Piena di edifici Poi adesso non so Dicendo che sia brutto bello Però non l'ho ancora giocata Nel Battle Royale Quindi non so dirlo Però Cioè Non è che Si siano inventati Chissà che cosa Quindi per me Ragazzi Mv3 È letteralmente Un aggiornamento Nulla di più Con un multiplayer Molto divertente Basato su cose passate Un remastered Possiamo chiamarlo Un gioco creato Per aggiornare Quello che era Un movement Che non è piaciuto Per niente Su Warzone 2 Questo è Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Se secondo voi Il ragionamento che ho fatto Ha un senso Se secondo voi Invece ho sbagliato qualcosa Se avete altre ipotesi Idee È un video Non è Non mira A gettare merda O Scusatemi il termine O definire uno schifo Mv3 Perché ripeto A me piace pure Quindi ci mancherebbe Però secondo me Questa è la verità Su Modern Warfare 3 È un aggiornamento Del moment Di Warzone 2 Nulla di più Ragazzuoli Io Vi abbandono Penso di avervi rubato Anche troppo tempo Noi ci becchiamo Col prossimo video Che dovrebbe essere A questo punto Il 17 Credo A meno che non mi parte Lo schiribizzo Ragazzi inizio a caricare Roba sul multiplayer Comunque dovrebbe essere Il 17 di novembre Sulla casa Che vi faccio vedere Tutta la casa nuova In cui abito Qua in Lussemburgo Con Alice Vi parlo anche un po' Di come è la mia esperienza qua Di come mi sto trovando In questo mese Che comunque in un mese Sai un po' di cose ne fai E nulla Ragazzuoli Vi saluto Vi aspetti il live tutti i giorni Un bacione E Ten of points Vi saluto Vi saluto Grazie a tutti.